Ilari Blasi ha davvero tradito Francesco Totti? Il pupone ha trovato i messaggi dell'amante di sua moglie? Le parole di D'Agostino Ilari Blasi ha davvero tradito Francesco Totti? Il pupone avrebbe trovato i messaggi che la conduttrice romana si scambiava con il suo amante, ma quali sono le prove? Cosa è successo? Leggi anche, Totti e Ilari Blasi, sapete a quanto ammonta il loro patrimonio? Cifre da capogiro Ecco tutta la verità Ilari Blasi ha tradito Francesco Totti? Il tradimento di Ilari Blasi nei confronti di Francesco Totti è stato commentato da Roberto D'Agostino in diretta da Mara Venierà Domenica in Ma cosa ha detto il direttore di D'Agostino? I messaggi dell'amante D'Agostino è stato anche ospite di Noonel Arena, nel programma di Massimo Giletti ha affrontato nuovamente l'argomento spinoso circa i tradimenti di Ilari Blasi nei confronti di Francesco Totti Il pupone ha davvero trovato i messaggi dell'amante della sua ex moglie? Secondo il direttore di D'Agostino, inoltre, nell'ambiente dello spettacolo tutti sapevano che il matrimonio di Totti e Ilari era fortemente in crisi da ormai anni Ecco le sue parole nel programma di Giletti, su Ilari Blasi, poi, Roberto D'Agostino ha detto, infine le parole su Francesco Totti, i rumors sul quarto figlio come sappiamo, Totti ha sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa, ipotesi però non totalmente condivisa da Ilari Sembra che il pupone volesse salvare il loro rapporto facendo un quarto figlio, ma la conduttrice romana non ha assolutamente voluto accondiscendere a questa richiesta, soprattutto sapendo perfettamente quale fosse la situazione fra lei e suo marito D'Agostino ha infatti dichiarato, qual è la verità in questa storia? La sapremo mai dai diretti interessati? Lo scopriremo presto. Seguici su Instagram cliccando qui Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!